Ciao Daniela, come sono andate queste due giornate? Ciao Ale, secondo me molto bene perché a parte la simpatia del gruppo, poi anche io mi sono sentita bene, mi sento rilassata, mentre di solito quando faccio questo tipo di giornate mi stresso tantissimo. Molto molto bene. Sì, quindi da questo punto di vista sono contenta e penso di portare a casa anche questa carica, questa voglia di praticare di più in modo corretto perché spero di aver appreso una tecnica nuova, ma con un senso di benessere anziché di arrabbiatura per non riuscirci. Bravissima. E cos'è che ti è piaciuto di più? Ma devo dire forse un po' tutto, riuscire a capire cosa fare ma anche a capire come farlo con piacere, ecco, più che con competizione. Benissimo, grazie mille Daniela. Ciao ciao. Ciao.